E i numeri lo dicono con chiarezza. Al Senato il Movimento 5 Stelle vola quasi al 32%. Forza Italia supera il 14%, ma la Lega tocca quasi il 18% e Fratelli d'Italia oltrepassa il 4%. Il PD supera di poco il 19%, più Europa non tocca il 3% e Liberi è uguale e lo supera di poco. Alla Camera le variazioni sono minime sostanzialmente. Le coalizioni al Senato. Se da solo il Movimento 5 Stelle, come detto, arriva al 32%, il centrodestra è al 37,48%, il centrosinistra al 23,11%. La situazione delle coalizioni non cambia granché alla Camera. Le proiezioni ancora provvisorie per i seggi al Senato danno al Movimento 5 Stelle una variazione da 109 a 119 senatori, alla Lega da 58 a 60, a Forza Italia da 46 a 52, al Partito Democratico da 44 a 46, a Fratelli d'Italia da 19 a 25, all'EU da 7 a 11. Risultato? Al momento, alla Camera e al Senato, non c'è una maggioranza precostituita in grado di far nascere un governo, un rebus che toccherà il Capo dello Stato affrontare subito dopo le elezioni dei due Presidenti del Senato e della Camera, che dovranno tener conto...